Allora, per chiudere l'argomento di prima, perché era una domanda che volevo farvi, immaginate che questa sia la curva vera, questo è il discorso del metodo di Allero. Allora, questa è la curva vera. Dove si troverà, secondo voi, la stima? Sopra o sotto? Cioè, in questo istante qua, dove sarà la stima? Sotto, perché la funzione sta facendo così, giusto? Ok, quindi quando farete, e mi auguro che lo facciate, il grafico dei punti stimati, dovrebbero essere sotto la curva. Vedete se è vero. Quindi, man mano che la stima migliora, i punti dovrebbero salire finché non si avvicinano a talmente tanto la curva che non riuscite a risolvere la differenza. Si confondono entro un certo grado di precisione. Ok? Ok, torniamo un attimo perché ho fatto questo disegno l'altro giorno all'altro gruppo e credo che sia stato istruttivo. Allora, io adesso ho provato a tirare dei quadrati e fare una parabola ma non mi è riuscito perché avevo troppi errori e la curva c'è un po' schifo. Voi avete la carta millimetrata e vi riuscirà meglio. Quindi ho tirato questa parabola a mano libera. Non so se è una parabola, no? Giusto? Sembra, è parabolico vagamente ma l'ho tirato a mano libera. Vorrei semplicemente che voi faceste questo, anzi lo scrivo così, in forma vettoriale. Voi dovete capire cosa la formula vi sta dicendo. Quindi, quando il punto è qui, io vi chiedo di disegnare il vettore posizione. Beh, è lì all'origine quindi ovviamente userei il Gerson Blue semplicemente qua. Eccolo qua, il vettore nullo. Vi chiedo in quel punto di disegnare la freccia che rappresenti la velocità in quel punto. Allora, voi guardate la formula, dite che nell'istante t uguale a 0 la freccia non ha una componente y, ha solo una componente x. Quindi, la freccia che dovete disegnare è una freccia che puramente ha la direzione x. E questo è quello che deve essere perché la freccia deve essere tangente. La curva e la parabola di questo tipo ha pendenza nulla qua. Adesso, quanto lungo volete disegnare questa freccia? Dovete decidere cos'è per voi un quadrato sul vostro quaderno. Quindi io prendo la decisione arbitraria e dico che la velocità sarà una freccia di questo tipo. Tracca. La velocità, io mi sono preso un impegno nel rappresentare graficamente il modulo della freccia a velocità nell'istante t uguale a 0 con una freccia di un certo numero di centimetri. Chiaramente rappresentamente al secondo. Quella freccia ha dimensioni di 1,1. Adesso, farò un'altra cosa. Questo è facile, no? Se io vi chiedo di disegnare l'accelerazione, voi cosa fate? Prendete un colore diverso e disegnate questa freccia. Come vedete, la freccia è puramente alla direzione y. E anche qua, la lunghezza fisica di gesso o di inchiostro che dovete tracciare sul vostro quaderno, voi dovete prendere un impegno di quanti centimetri corrispondono a metri al secondo al secondo. Quindi, supponiamo io disegni la freccia di accelerazione in questo modo. Questa è la freccia di accelerazione. In quell'istante la freccia è puramente alla direzione y, la velocità è puramente alla direzione y, questi sono un certo numero di metri al secondo, questi sono un certo numero di metri al secondo al secondo. Ok? E la particella si trova qua. Adesso, cosa vi dice questa quadra? Come vi ho detto ieri, questa formula la potete in qualche modo invertire e dire che il tempo è uguale a x diviso vx0. Cosa vi dice questo? Se voi guardate la coordinata x della particella, potete dedurre quanto tempo è passato. in particolare, se io prendo questo punto qui, che apro la mia mano, anzi, uso questo, uso questo per rappresentare uno spazio, questo è uno spazio, quindi sono metri. e io considero questo altro spazio, uno spazio identico qua, io so che quando la particella ha impiegato una certa quantità di tempo, arriva qua. Beh, il tempo che la particella ha impiegato arriva qua, è il doppio. Cioè, se questo ha impiegato 3 secondi, arriva qua, questo ha impiegato 6 secondi. questo è quello che vi sto dicendo. Se raddoppio la x, il tempo è raddoppiato. Lo vedete? Ok? Quindi se io vi chiedo di disegnare la freccia velocità qua, voi dovete fare, nell'ipotesi che questa sia una parabola, ma non lo è, l'ho tirato liberamente, io dovrei, il disegno dovrebbe, perché io ho degli obblighi ormai, perché se io vi chiedo di disegnare la velocità qua, voi dovete disegnare una freccia che ha una componente x e una componente y. Quindi la componente x, anzi, sapete che questa qua è tale quale, la componente x non sta cambiando. Ovviamente il disegno vi riesce bene se cercate di farlo in scala. questa è la componente x, la componente x è qua. La componente x la velocità non sta cambiando, la componente y si invece. Qua la componente y vale 0, qua la componente y in un istante è diverso da 0, è qualcosa. quindi immaginate che io disegni, adesso guardate l'obbligo che ho. Ammesso che la curva bianca sia corretta, e vedremo adesso se è ragionevole o no, io so che la velocità vera, la composizione della velocità x e della velocità y deve essere tangente alla curva. e conosco la componente x, perché la componente x è la stessa di prima e devo essere sicuro di aver tracciato bene. Quindi siccome io nel spostare la mia mano non è detto che la mia mano rimanga, no, è meglio un corpo rigido. Vedete? Ah, in effetti è giro con un centimetro, non era buono il mio trasporto della mano. devo stare attento, è lì che deve arrivare, è qua, anzi mi fa piacere aver sbagliato perché mi deve mandare un messaggio molto forte. Questa velocità qua, dov'è l'altro? Non si dimentica, siete d'accordo? è un po' meglio, no? Anzi, forse è ancora un po' corto. Adesso riprendo, invece di fare la copia di questo è meglio sempre fare la copia dell'originale, no? Perché se no uno propaga gli errori, verifico di nuovo, forse adesso è leggermente esagerato. E guardate come stavo sbagliando qua, mamma mia! questo lo potete fare sul vostro quaderno. Di nuovo, il fatto che sto sbagliando è molto istruttivo, no? Questo è il guai di fare la lezione con i power point, che è tutto già perfetto. Invece il vantaggio di fare la lezione al gesso è che uno si accorge delle sottigliezze. Come? Perché sbagliando la figura. Eh? Questa freccia deve essere identica. Sono forse paranoico, se no mi riescerà male il disegno. Adesso la velocità, perché questa è solo la parte x della velocità, la velocità, la composizione della parte x e della parte y deve essere tangente la curva. Quella curva là, se è corretta, cosa che non so perché l'ho tirata liberamente, deve essere tale che la freccia deve essere tangente. Quindi, per esempio, supponiamo che questa sia corretta. Allora, io traccio la tangente, sarà una cosa, ovviamente già vedete che la curva non è che anche fa un po' schifo questa curva, ma supponete che questa sia la tangente. D'accordo? Quindi, se questa è la tangente, mi sta dicendo che la velocità deve essere così, e deve proseguire, ma proseguisce fino a dove? Fino a qui, no? Perché questa freccia che componente x ha? Questa, non può andare più giù. Non può essere così, perché avrebbe una componente x sbagliata, capite? Si deve fermare là. Ammesso che quella sia la direzione della velocità, e fermandosi là, io so quindi quanto è questo disegno, mi vincola quindi la componente y nella velocità, che è questa qua. Questo più questo mi da questo. Adesso, questo il punto qua, è a un istante doppio, no? È all'istante... Se ha impiegato 3 secondi di andare qua, questo ha impiegato 6 secondi. Quindi, la freccia qua, che devo disegnare, deve essere il doppio di quello che ho appena disegnato. Deve essere consistente il disegno. Quindi, io adesso prendo questa freccia, e rimuovo la mia mano, non è affidabile come metro, perché, con la partita che ho, la porto qua, e poi devo raddoppiarla, quindi questo è 1, vedete cosa ho fatto? Questo qua, che strano questo trasporto della mia mano, si vede che proprio non mi accorgo più, non controllo più la mia mano, per via dell'età. Ero più bravo una volta con la mano. Ero più bravo una volta con la mano. C'è un documento audio della vostra corruzione morale. Adesso, io faccio la composizione di questo, e questa qua, vedete che fa schifo? Non può andar bene questa curva che ho tracciato. Lo vedete? Guardate come mai non può andar bene. perché questa non è tangente! Capite? Provate voi a fare un disegno decente, voi avete la carta millimetrata, disegnatevi una parabola, poi, fate in modo che in ogni punto della curva, se questa è la parte parabolica, la velocità deve essere tangente, alla parabola, se non lo è, il disegno è fatto male. Quindi io non cercherò di migliorare il disegno, perché evidentemente è troppo aggressiva la curva. Forse anche la composizione fa un po' schifo, però voglio che voi cercate di capire cosa sta succedendo. La velocità nella direzione x non cambia, la velocità nella direzione y cresce linearmente, e quindi quando componete queste due frecce, vi da la direzione della retta tangente alla curva. Ok? Meditate su questo. L'altro gruppo è riuscito meglio il disegno, ma forse il fatto che è riuscito male, forse è più istruttivo, perché vi fa capire che c'è qualcosa che non va in questo disegno. Quando invece la matematica dice cosa vuol toccare, che la componente y non deve cambiare linearmente nel tempo. e questa qua, perché deve essere il doppio di qua? Perché questo ha una x doppia di questa, e quindi l'intervallo di tempo tra qua e qua, anzi l'intervallo di tempo tra qua e qua, è il doppio di quello tra qua e qua, quindi questa freccia deve essere il doppio di questo. Fatelo voi, se poi non vi riesce allora fatelo di nuovo. e se non vi riesce allora venite da me. E' impossibile per me fare una lavagna, anzi mi chiedo sempre come mai non abbiamo, nelle facoltà tecniche come ingegneria e fisica, perché non abbiamo lavagne con con il reticolo. Sarebbe talmente ovvio che è inutile, no? Adesso voglio farvi un discorso graduale, forse questo pomeriggio siccome è un discorso che io trovo, ogni anno esito a farlo perché mi prende tempo, però secondo me ogni studente di fisica, dell'esame di fisica dovrebbe avere un'idea, dovrebbe aver sentito questi discorsi. Quindi lo faccio per voi, non è tanto un argomento orale d'esame, quindi ascoltatemi, cercate di capire, è una cortesia che vi faccio. Allora parte da un discorso, una specie di critica a un uso di certe parole che si ha nei libri di fisica, non tanto nei libri didattici, ma a certe volte nei libri un po' divulgativi. Si parla di osservatori, cioè un osservatore, poi c'è un altro sistema di fenomeni, c'è un altro osservatore e si pensa quindi, visto che siamo esseri umani, è un concetto antropomorfo, che ci sia qualcuno che guardi la scena, che raccolga dati e poi faccia le sue belle considerazioni di fisica. Questi osservatori, appunto la teoria della relatività, sono diversi osservatori, c'è l'osservatore sul treno, l'osservatore sulla strada, l'osservatore sul razzo, e si confrontano e si vedono cose strane, questo è un osservatore. Il wireless del concetto osservatore, che va chiarito e va detto una cosa, se io prendo i miei occhi e li tengo chiusi, poi apro e poi chiuso, chiudo, come la macchina fotografica, l'otturatore che apre e chiude, raccolgo della luce, sostituiamo me, perché vogliamo togliere gli esseri umani dal discorso, non è tanto un esser umano che osservano, potete sostituirmi con la macchina fotografica, che osserva la scena, l'otturatore raccoglie dati chiuso, l'istante, l'intervallo di solito breve di tempo, in cui si apre e chiude, perché se non è breve che succede, vedete l'immagine sfocata, perché io mi muovo, invece se volete congelarmi in una posizione, dovete avere un atturatore veloce, quindi l'istante di tempo, l'intervallo molto breve di tempo, in cui l'otturatore è aperto, è abbastanza ben definito, non è quello il problema, il problema è, questo è il fotogramma, la fotografia, i vostri nonni lo chiamavano l'istantanea, allora, qua per esempio avete un assi x y, c'è una persona qua, poi dietro di lui, in lontananza, avete che so, una casa, c'è una finestra, poi in lontananza, avete magari una montagna, in lontananza avete la luna, in lontananza avete una stella, ancora più in lontano avete una galassia, quella luce è stata raccolta, in un intervallo di tempo, abbastanza ben definita, questa è l'apertura dell'otturatore, quella luce è là dentro, scattate un'altra foto, poco dopo, magari non si riprese, la persona si è spostata, la casa è sempre lì, si spera, il terremoto si è spostato, la luna, se l'otturatore, sono istanti molto vicini, non si sarà spostato, se è una fotografia di un'ora dopo, magari vedete che la luna si è spostata, le stelle pure, anzi probabilmente meno, perché la luna si muove più velocemente, della botte delle stelle, la galassia alle stelle più o meno, non si sono mosse, e la luna un pochettino, eccetera, qualcosa, e voi fate la vostra cinematica, no? Dite che in questo istante, T1 il signore era qui, nell'istante T2 il signore era qui, quindi lui si è spostato un delta x, in un intervallo di tempo delta t, ha una velocità media delta x su delta t, e uno si fa la bella cinematica, qual è il problema? Il problema è che il fotogramma, non mostra le posizioni dei corpi, in un certo istante, ma il fotogramma mostra la luce che è arrivata alla cinepresa in quell'istante, e quella luce è stata messa, non tutti nello stesso istante, che uno pensi quando usa la parola istantanea, può andare bene nel senso, se si riferisce all'istante in cui si è aperto l'ottorotore, ma non va bene se si riferisce alle posizioni dei corpi nella fotografia, perchè la posizione della galassia, che voi registrate in quell'istante, magari è il 100 milioni di anni di luce fa, se questo è il sole, non lo è, se c'è il sole è di 8 minuti fa, la luce che io percepisco ora di lui, è di qualche nanosecondo, la luce che ho raccolto allo stesso istante del tipo che l'ha indietro è magari di 30 nanosecondi fa, quindi la luce che io ricevo è stata messa in momenti diversi, quindi questa galassia forse non esiste più, o la stella piuttosto, perchè le galassie è difficile che... ma le stelle possono suicidarsi, d'accordo? Quindi il concetto di osservatore ha questo guaio, che la luce che la persona guarda osservando è stata messa in istanti diversi, quindi le posizioni che uno vede non sono le posizioni ora, il concetto di ora è molto vago, però si può capire, certo che se la luce fosse infinitamente veloce non ci serve questo problema, invece in effetti se il buon Dio si fosse veramente stufato dagli esseri umani e questo è il sole, e come nelle vecchie lampadine che c'è la cordicella, e Dio tira la cordicella e spegne il sole, noi ci accorgiamo tra 8 minuti, certo che la terra continuerebbe a girare attorno al sole spento, ma se Dio fosse ancora più sadico, cosa che non è, non solo spegnerebbe il sole, ma la farebbe sparire, cosa succederebbe secondo voi? Se questo è il sole, e questa è la terra che orbita, eh? Pensateci, se si spegne il sole, noi spegnere il sole è ancora là, la sua massa è ancora là, la sua massa gravitante è ancora là, ma se si spegne il sole, noi ci accorgeremo dello spegnimento solo 8 minuti dopo, cioè, usufruiamo di 8 minuti di luce, che continuano a viaggiare, prima dello spegnimento, ma se il sole sparisce proprio, cosa succede? Noi continueremo ad orbitare per 8 minuti, perché l'informazione che il sole non c'è, arriva dopo 8 minuti, quindi noi continuiamo a girare, e poi quando l'informazione, la gravità, pensateci, sempre un po' sorprendente, che la gravità sia istantanea, no? In fondo, il fatto che la velocità della luce, non lo sia, è un fatto ormai, che fa parte della cultura diffusa, ma pensare che la luce, impieghi tempo, e la gravità sia istantanea, è un po' strano, se vi fermate a pensare, dovrebbe essere più facile per voi, accettare il fatto che anche la gravità, impiega tempo, a propagare la sua informazione, no? Pensate, si. E guardate che divertente, io dovrei venire un giorno con un libro, ho trovato un bellissimo libro, c'è un mercato di antiquariato, nella mia città, una volta al mese, e c'è un signore inglese, che vende libri antichi, ho trovato un libro in inglese, del 1925, di fisica teorica, molto ben fatto, proprio bello, però, c'è una frase, che io vorrei veramente un giorno, ho fotocopiato, metterlo in rete, che è stupefacente, perché l'autore dice, noi, di 1925, sono già passati i 70 anni, 60 anni da Maxwell, delle onde elettromagnetiche, no? Dice, i fenomeni elettromagnetici e meccanici, hanno un tempo di propagazione, no? la velocità della luce, solo la gravitazione, non è così, la gravitazione è istantanea, cioè, questo autore, non sarebbe stato d'accordo con me, avrebbe detto che, se voi fate sparire il sole, istantaneamente la terra andava per la tangente, quindi, è solo adesso, a distanza di tanti anni, però, le cose ovvie, non so, per niente ovvie, comunque, quindi, la storia dell'osservatore, io vorrei cestinarlo, o almeno, ridirlo in modo, molto più, concreto, allora, per farlo, faccio un discorso, questa è una strada, faccio un discorso, ripetineo, piazzerò lungo la strada dei paletti, a distanza regolare, questo non è un problema, la gente sa far questo da 3.000 anni, 2.500 anni, 3.000 anni, da invenzione all'agricoltura, quindi, piazzo una tacca, metto una tacca a distanti, piazzo delle tacche, nessun problema, e in queste impostazioni, io metto degli orologi, allora, immaginerò che saranno degli orologi digitali, che si possono attivare, spegnere o attivare, con un tocco di un pulsante, o magari con un segnale di qualche tipo, ma invece di disegnare una squadra, con una scatola, con dei numeri, disegnerò il simbolo classico dell'orologio, quindi un tondo con le lancette, ok? Quindi metterò un orologio qua, la macchina che si muoverà sarà qua sopra, l'orologio lo metto sotto, così non si confondano, metto orologi identici nelle varie impostazioni, forse ho messo troppe tacche, perché ho un sacco di cerchi da disegnare, avrei dovuto mettere tacche più sparse, questi rappresentano gli orologi, adesso io vi chiedo di immaginare, poi essendo fisici ingegneri, dobbiamo trovare un modo per fare quello che vi sto chiedendo, immaginare che questi orologi siano sincronizzati, quindi dovremmo chiedersi come si fa a sincronizzare gli orologi, immaginate che siano sincronizzati, che avete già risolto il problema di sincronizzazione, quando dico sincronizzati, vuol dire che battono tutti lo stesso ora, e stanno girando con lo stesso ritmo, quindi quando questo segna a mezzogiorno, se gli altri orologi sono sincronizzati, segnano tutti a mezzogiorno, se questo nell'avanzare del tempo, arriva a mezzogiorno un quarto, se perché sono sincronizzati, sapete che gli altri insegnano mezzogiorno un quarto, sono sincronizzati e stanno girando, qua sta arrivando un'automobile, lo disegno con un coefficiente aerodinamico orribile, e sta avanzando, allora immaginate che quando lui passa in prossimità, ho fatto un po' troppo grande l'orologio, la macchina, oppure ho fatto troppo vicini gli orologi, perché ovviamente voglio immaginare che l'orologio sia in prossimità a un orologio, non che sia così grande che è vicino a due orologi, se mi immaginate che è piccolino, e lui quando si troverà qua, sarà prossimo solo a lui, e immaginate che ci sia un meccanismo con cui questo orologio, quando è in prossimità, venga fermato, bloccato, quindi o che voi passeggeri, pulite la finestra, e con la mano toccate il pulsante che blocca l'orologio, oppure un marchingenio, un sensore di prossimità, che genera un segnale elettrico, che blocca l'orologio, quindi gli orologi stanno girando, e vengono fermati, quando la macchina passa vicino, quindi quando la macchina è qua, immaginate che questo è a mezzogiorno quando è qua la macchina, blocca questo orologio, gli altri orologi continuano a girare, poi la macchina avanza, ecco perché mi lamento di aver fatto troppi orologi, per cui non girare tutti questi benedetti orologi, ogni anno faccio lo stesso errore, preso dell'entusiasmo, disegno troppi orologi, è che palle, col power point uno se li fa, però io non amo fare lezioni con power point, lo faccio solo quando proprio sono alla fretta, perché? perché se uno fa uno sbaglio, gli studenti imparano dallo sbaglio alla lavagna, sul power point non vedete nemmeno che c'è il rischio di uno sbaglio, io credo fermamente nel gesso, questi orologi sono tutti a mezzogiorno, quando lui è qua e blocca questo a mezzogiorno, questi sono a mezzogiorno, questi immaginate che è il passare del tempo, quindi gli orologi adesso si sposteranno, quando la macchina è qua, questo orologio è stato bloccato a mezzogiorno, immaginate che la macchina è arrivata qua, quando questo segna un quarto, quando questo segna un quarto, questi segnano un quarto, quindi completiamo il disegno con tante belle frecce, così vedete cosa intendo per gli orologi che continuano a girare, ovviamente questo è sempre bloccato a mezzogiorno, quando la macchina adesso è qui, questo l'ha bloccato, questo è bloccato all'ora in cui era stato bloccato, questo magari è andato avanti a mezzogiorno e mezzo, quando arriva qua blocca questo, ma questi intanto sono andati avanti a mezzogiorno e mezzo, e ovviamente faccio l'ultimo, e anzi non lo faccio perché non c'è spazio, capite? Quindi dopo un po' la macchina se l'è andata, faccio l'ultima serie di macchina, e voi trovate che l'orologio, che questo la chiamiamo x1, questa è la posizione x1, questa è la posizione x2, mentre le coordinate è banale, lo sapevano fare i babilonesi, quindi la geometria di dove sono piazzati gli orologi è banale, hanno delle coordinate, e quindi l'orologio x1 segna mezzogiorno, l'orologio x2 segna mezzogiorno un quarto, sto immaginando che la macchina procedesse a velocità uniforme, per esempio semplice, io non sto guardando la scena, io sono a dormire, l'essere umano in questo non c'è, è al bar che si fa il cappuccino, è uno statale che fa il meno possibile, che non rischia il licenziamento, e non ha alcuna motivazione, tranquillo, leggo il giornale, quando ho finito il leggere giornale, vado pigramente, ormai la macchina non c'è più, vado pigramente, sul luogo dell'esperimento, e raccolgo i dati, passo per la posizione x1, e vedo l'istante t1, passo nella posizione x2, e vedo l'istante t2, mi sono stancato, ma di schiena, vado a casa, dormo, ritorno nella posizione x3, e raccolgo i dati, vedete che non c'è uno che osserva la scena, ok? E quindi mi faccio la mia tabellina, posizione, tempo, mi faccio x1, che tempo ho? t1, x2, tempo t2, x3, tempo t3, o raccoglio una tabella di dati, e poi magari faccio una rappresentazione grafica, perchè le tabelle sono un po' stitiche, è un modo un po' freddo di guardare i numeri, non si vedono le tendenze, a meno che uno non è quasi un autistico, avete visto Rain Man? Il film Rain Man? e fate un grafico, dove che so, questo è il tempo, questa è la posizione, e vedete che, e potete dire, ah, sembra, guardare i dati, che a intervalli regolari del tempo, ho la posizione, forse è un moto uniforme, cioè, si è fatta la vostra cinematica, d'accordo? Ovviamente rimane, ma come cazzo si fa ad avere orologi sincroni? Questo è il dubbio, questo è il problema, mettere gli orologi è banale, ma fare in modo che battano allo stesso tempo, come si fa a fare? Allora, vi racconto due metodi, uno è vetto come Cucco, e, per esempio, si esemplifica nei film, non so, abitati tipo nella prima guerra mondiale, dove devono fare un, l'esempio che faccio ogni anno, devono fare un attacco, al nemico, alla posizione del nemico, e l'attacco per riuscire, deve avvenire da più direzioni, simultaneamente, allora cosa fa il generale? Convoca i suoi ufficiali, quelli che guideranno gli attacchi dalle varie direzioni, in un posto, nella sua tenda, nel suo bunker, e ognuno tira fuori il proprio orologio, e lo sincronizza lì, con quello del generale, cosa vuol dire sincronizzare? Che controllano, regolano le lancette dei secondi, dei minuti, ovviamente delle ore, a essere in accordo con quello del generale. 3, 2, 1, e fanno partire i propri orologi. Poi cosa fanno? il generale rimane lì, e gli ufficiali vanno nei loro posti, da dove attaccheranno. Quindi voi avete un posto nello spazio, dove gli orologi sono in qualche modo, tutti in un unico posto, li sincronizzate, questi sono orologi, mi hai sicuro detto l'altro, forse il disegno non è riuscito a granché, lo faccio meglio, questo è un orologio, questo è un altro orologio, questo è un altro orologio, li sincronizzate, questo è banale, perché sono contigui, no? Avete mai visto la scena? Io ho visto tanti film di guerra, ah! Sincronizziamo gli orologi! Poi cosa fate? Uno rimane qua, e gli altri vanno a posizionarsi, quindi questo va qua, questo va qua, quindi spostate gli orologi, tranne uno, quello del generale si presume, qual è l'ipotesi però? Che nel trasportare l'orologio, magari voi state inciampate e si rompe, oppure semplicemente per gli scossoni, magari perde il ritmo, e questo è un aneddoto che racconto ogni anno, non mi è successo questo, all'epoca quando facevo un esame di analisi, di meccanica razionale, che è un esame che ho impiegato tanto, per capire la filosofia dell'esame, quindi molto grosse difficoltà, ero un pendolare, pendolare già di due anni, anzi era un esame del secondo anno, ma l'ho fatto l'anno dopo, quindi ero tre anni ormai che facevo pendolare, quindi avevo ottimizzato i miei viaggi, la mia sveglia era un orologio meccanico, era un orologio che dovevo caricare, avevo la molla caricata, ottimizzavo nel senso che avevo la sveglia, avevo pochi minuti per lavarmi i denti e la faccia, a vestirmi, prendere esattamente l'autocus giusto, arrivare in stazione, e ottimizzavo per arrivare non più di 5 minuti, prima dell'arrivo del treno, era un periodo in cui i treni erano abbastanza prevedibili, arrivavano abbastanza bene, un giorno, il giorno dell'esame, la sveglia, mi sveglio, ma che buio, non era buio penso, ma era meno luce del solito, ma sarà una brutta giornata, arrivo in stazione, con ben mezz'ora di anticipo sul treno, tre ore dopo il mio orologio segnavo un'ora e mezza in anticipo sugli orologi delle persone accanto a me, e preso il mio orologio e messo accanto a quello del mio collega, si vedeva la mia lancetta dei secondi girare più in fretta di quello del mio collega. La sera stessa l'orologio era tornato normale e non è mai più successo per i tre o quattro anni che ho continuato a portare questo orologio, scesso una sola volta, non so perché, io soffro di, adesso da adulto, soffro di fibrillazione atriale, sono sotto medicine, cos'è la fibrillazione atriale? è una condizione dove il cuore parte in maniera caotica, non è solo veloce, ma proprio non ha ritmo, è molto sgradevole, è anche pericoloso perché il cuore non si svuota bene, e quando il sangue ristagna, il sangue coagula e coagula, ti parte e hai l'ictus, è pericoloso, non perché rischia un infarto, ma perché il coagulo si forma. Probabilmente a quegli anni non soffrivo ancora di fibrillazione, ero troppo giovane, avevo 22 anni, 23 anni, ma probabilmente, era una forma, come potrei dire, il mio cuore stava evolvendo, e probabilmente, eccitato per i tanti caffè quel periodo, bevevo 6-7 caffè al giorno, espressi eh, e studiavo come matto, questo esame mi faceva impazzire, e quel giorno ero molto stressato, ok? Quindi probabilmente il mio cuore stava battendo molto rapidamente o in maniera irregolare. Allora dovete sapere, che i vostri nonni forse possono testimoniare, che se voi prendete il classico orologio a pendolone, e lo mettete sul muro, lui batterà il suo tempo, ma se prendete un altro orologio, e lo mettete sullo stesso muro, dopo un po' batteranno insieme, perché le vibrazioni del pavimento del muro che uno induce, in qualche modo si mettono in sincrono, si mettono in qualche modo in fase, sono fenomeni complicati, di ingegneria e meccanici, alcuni di voi forse lo studieranno, di risonanza, eccetera. E non è escluso, che avendo il cuore che stava battendo con matto, e l'orologio sul polso, tutto questo ritmo molto serrato del cuore, aveva perturbato l'orologio. Morale è che non è banale avere un orologio che mantenga il battito. Questo è, scusate l'aneddoto, ma questo è il messaggio. come fate ad essere sicuri, che l'orologio che è qui, venga a mantenere il grip? Ecco, dovete essere molto delicati, molto delicati. Questo mi fa apriorato il discorso, è storia questa, nel 1720 giù di là, ci fu una terribile tragedia nella Marina Inglese, una piccola flotta di tre o quattro navi, in una notte tempestosa buia, andarono fuori rotta, e andarono a cozzare su degli scogli sommersi, vicino a delle isole. Morirono 2500 marinai, fu una tragedia nazionale. Il re, praticamente incazzato, ha detto qua dobbiamo finirla. cosa succedeva? Cosa fa il marinaio per sapere dov'è? Lui ha bisogno di sapere latitudine e longitudine. La latitudine cos'è? Nord-sud. La longitudine è est-ovest. La latitudine è come fate a saperlo? Questo è facile, perchè voi aspettate il mezzogiorno, cos'è il mezzogiorno? Quindi prendete un bastone, lo mettete lungo la verticale. Cos'è la verticale? La direzione lunga la quale cadono gli oggetti se lasciate cadere la terra. E guardate l'ombra che il sole fa. E al muoversi del sole nell'altra giornata l'ombra non solo si sposta ma si allunga o si accorcia. Mezzogiorno è quando l'ombra è la più lunga possibile. Quindi voi potete sapere che è mezzogiorno in ovunque, in qualsiasi prossimo mondo, a patto che sappiate che ci sia il sole. D'accordo? Quello è mezzogiorno. Poi, sapendo che è mezzogiorno, guardate il sole. Quanto è alto, sapete quanto Nord o Sud siete. Perchè proprio se voi siete l'equatore, se è molto basso, siete nell'emisfero Nord. In Italia, almeno dove abito io, a circa 45 gradi. Qua cosa siamo? A 43, perchè io vivo nel Veneto a 45, più o meno dove c'è il passaggio dall'Emilia al Veneto. Quali sono le coordinate di Cassino? Lo sapete? Quello è l'angolo a cui si trova il sole. Quindi voi potete sapere dove siete Nord-Sud si fa. Ma dove siete Est-Ovest? Come si fa? Come si faceva? E come si deve imparare a far bene? Si prende un orologio, si va all'orologio di Greenwich, qual è quello che vuoi definizione sarà 0-0-Est-0-Ovest. Prendete il vostro orologio, lo sincronizzate con l'orologio di 0-Est-Ovest, poi prendete il vostro orologio che è la coppia di Greenwich e lo portate con voi sulla nave. Quindi, cosa succede? Voi, ecco a mezzogiorno, perché l'ombra è lunga, misurate l'angolo, sapete Nord-Sud. Dove siete Est-Ovest? Guardate l'orologio di Greenwich. Non sarà a mezzogiorno. Sarà, che so, alle 4 del pomeriggio. Mentre a mezzogiorno dove siete voi, voi sapete che è 4 del pomeriggio a Greenwich. E quindi potete calcolare quanto siete Est-Ovest, d'accordo? Ma, se il vostro orologio nell'andare su e giù con la nave, le burasche e le escursioni termiche di notte freddo, di sole, giorno caldo, con il sale che corrode, i metalli che si dilattano e si spostano con il su e giù, l'orologio che avete qua segna veramente l'ora di Greenwich? E se non lo segna voi siete fuori rotta. E andate a cozzare sugli scogli. E le persone muoiono. Quindi il Re disse, dobbiamo avere un metodo più preciso per determinare la longitudine. Ok? C'erano due scuole, anche prima della gara d'appalto del Re, già Galileo, al cento anni prima, 150 anni prima dell'episodio, aveva pensato a un metodo per sapere l'ora. Perché lui scoprì le lune di Giove. Con lo telescopio, voi vedete le lune di Giove che nel giro di una notte e due notte scambia la posizione. E poi ha detto, cazzo abbiamo un orologio! Perché in fondo, qual è stato l'orologio nostro per migliaia di anni? Il sole, no? E la luna e le stelle. Ecco un piccolo orologio, molto veloce tra l'altro, perché nel giro di una notte e due vedete alcune lune proprio spostarsi. Quindi se io faccio una tabella e un calendario delle lune di Giove, io guardando e vedendo la disposizione delle lune posso sapere quanto tempo è passato da un'osservazione a un'altra. e questo era l'approccio astronomico. Non funzionò, la vea della carina non funzionò per motivi pratici, perché su una nave, osservare le lune non è banale e poi per tanti altri motivi pratici. E la strada che vinse la gara alla fine del re d'Inghilterra fu la strada meccanica. e c'era un signore che si chiama Harrison, che pensate se volete è uno dei Beatles, che riuscì a vincere la gara. C'è un bel libro, domani martedì vi porto il titolo del libro, è in commercio per 8-10 euro al massimo, c'è un'edizione tascabile, che racconta questa storia qua, di questo signore che racconta la storia delle lune di Giove e di questo inventore che costruì il primo cronometro, cioè il misuratore del tempo, ed era così preciso che gli inglesi diventavano la potenza mondiale dell'epoca, perché riuscirono a navigare con successo attorno al globo, ok? Quindi questa è storia, il trasportare gli orologi non è affatto banale, è anche storia della tecnologia, perché questo inventore per inventare l'orologio che funzionasse e che mantenesse la precisione, dovete inventare tecniche metallurgiche che sono in un certo senso la nascita della meteorologia moderna, della tecnologia moderna, usava per esempio metalli diversi, due metalli che avevano coefficienti di espansione termica opposti, quindi quando erano messi assieme, uno quando si scalda magari si piega di qua, e l'altro si piega di qua, quindi in qualche modo si compensano cose del genere, tutto è un metodo di marchi ingegni per far girare, per estrarre l'energia della molla, era veramente un genio, la tecnologia moderna è nata con lui da un certo punto di vista, e questo esemplifica il problema, ok? Non è banale, questo approccio non è banale, gli orologi nel trasportarli possono perdere il ritmo. C'è un altro metodo? Qualcuno riesce a immaginarlo? Dovresti saperlo questo? Qual è il metodo che si usa? Orologio digitale, le faccio più sparse, fatemi fare il disegno, ne faccio alcuni perché sarà una sequenza temporale, che sarà una sequenza temporale, fatemi anche voi i disegni, allora, nella prima istantanea fotogramma come lo vogliamo camminare, qua, nell'orologio al centro, la chiamiamo l'orologio madre, mettete un traliccio, perché emetterete un'onda radio o un lampo di luce, e magari fate in modo che questi orologi siano tutti spenti adesso, sono orologi digitali spenti, quindi questo è spento e lo impostate a mezzogiorno. Questo qua è fermo, ma lo impostate per esempio a mezzogiorno quarto, cioè cosa fate? Dite, io quando accenderò un lampo di luce, quando accenderò il lampo di luce a mezzogiorno, attiverà questo orologio, cioè attivando l'orologio attivo il lampo di luce, il lampo di onde elettromagnetiche, l'onda elettromagnetica impiega tempo a propagare, immaginate che impiega un quarto d'ora per arrivare qua, quando arriva qua il segnale d'arrivo dell'onda accende l'orologio, quindi predisponete questo ad accendersi quando arriverà l'onda, quindi non sono ancora accesi, qua sono spenti, però predisponete questo, poi immaginate che l'onda nell'arrivar qua continua la sua strada e arriverà qua dopo un altro quarto d'ora, quindi questo va predisposto alla mezza, nell'ipotesi, queste sono ipotesi, devo immaginare di misurare la velocità della luce qua, su un banco, magari con un laser, e mando verso uno specchio e vedo il segnale di ritorno, faccio giochi di interferenza, ottica moderna, la gente può con qualche miliardi di euro comprare, ci sono industrie che hanno cataloghi di attrezzatura ottica, lenti, laser, filtri eccetera, dove potete fare questa misura su un tavolo, fate un lampo di luce, va e torna e misurate il tempo che ha impiegato, quindi la velocità della luce potete misurare sul tavolo, ok? Poi dite, ah ok, conosco la velocità della luce, quindi questo orologio che è a una certa distanza, perché ce l'ho messo io, il tempo della luce, nell'ipotesi che la misura qua valga sul campo pure, quello che faccio qua sul tavolo, sono pippe, o scopro veramente qualcosa sulla natura là fuori, questa è l'ipotesi della scienza, non è banale, quindi io misuro la velocità della luce, quel numero la uso per dire, metto in anticipo questo orologio, quando la luce impiegherà arrivare qua, lo stimo col valore, lo spero che sia giusto, uso il valore che ho calcolato qua, e per dire di quanto devo predisporre questo orologio, è chiaro? Poi immagino che la luce abbia la stessa velocità di là, che la velocità della luce sia isotropa, che abbia lo stesso valore nelle tutte le direzioni, e cosa c'è di speciale di questa posizione, se avessi messo l'antenna emettitore qui, la velocità della luce è omogenea, cioè ha lo stesso valore in tutti i punti, cioè se io sposto il mio banco 6.000 km, ottengo lo stesso valore, o dipende da dove faccio la misura, vedete quante ipotesi ci sono dietro questo trucco che sto per fare, quindi nell'ipotesi che il lampo di luce, silenzio se no hai filmato da puttane, io questo qua che è simmetrico a questo, stessa distanza, lo predispongo a un quarto, questo lo predispongo alla mezza, mezzogiorno, lampo di luce, questo parte, questi sono ancora fermi, perchè il lampo è qui, questo avanza quando il lampo è qui, arriva qui, il lampo arriva qui, attiva questo orologio, attiva questo orologio, ma questi che segnano ancora l'ora prestabilita, non sono ancora stati raggiunti dall'onda, quindi sono ancora fermi, l'onda avanza, è arrivato qui, nell'avanzare questi tre orologi che adesso sono tutti vivi, segnano la mezza, l'orologio arriva qua, attiva questa che segnano la mezza, vedete cosa sta succedendo? All'interno del fronte di luce, gli orologi saranno sincroniti, li ho sincronizzati a partire da un lampo, via! è chiaro che se la velocità della luce fosse infinita, facendo start, via! tutti gli orologi saranno subito attivati, invece la luce non ha velocità infinita, implica tempo, e attiverà gli orologi, man mano che il fronte d'onda si espande, alla velocità della luce, si spera! poi uno fa gli esperimenti, descrive il mondo della fisica così, e scopre che aveva ragione a usare quel valore di c misurato qua sul tavolo, e aveva ragione a ipotizzare che la velocità della luce era isotropa, che era uguale nelle due direzioni, ed era omogenea, perchè poteva spostare l'orologio madre qua, qua, chissà dove, quindi è a valle di anni di esperienza di fisica sperimentale, che questo sistema si dimostra essere valido, perchè era partito da tante ipotesi, no? ma rimane un problema, siccome non è la velocità della luce, non è infinita, ma è circa 3 per 10 a 8 metri al secondo, c'è un problema, adesso vediamo se riesco almeno ad annunciarlo, 7 minuti dovrei essere in grado di annunciarlo, perchè è una domanda da un milione di dollari, questa è la vostra strada, sapete sincronizzare gli orologi, l'abbiamo appena fatto, li disponete nello spazio, fate partire un lampo, li sincronizzate, quindi ormai avete sincronizzato gli orologi, oppure usate anche la tecnica del trasporto, se state molto attenti, c'è un meccanismo di male, può funzionare, quindi questo orologio, questo orologio, questo orologio, questo orologio, e questo orologio, ok? Adesso qua sta arrivando un treno, faccio un treno, perchè è un oggetto che è abbastanza lungo, anzi non serve neanche per ora, la lunghezza vi servirà dopo, la seconda parte della lezione, non serve che sia lungo, immaginate che sul treno ci sia un unico orologio, eccolo qua, è un orologio, e il treno si sta spostando con una certa velocità, e immaginate che questo orologio per il momento sia spento, faccio un po' più tondo, e sia messo a mezzogiorno, pronto, è spento ancora, è spento, questi orologi invece che sono solidari con la lavagna, questo invece si sposta, questi orologi, che sono tanti, disposti in vari punti, sono però sincroni, li abbiamo sincronizzati, stanno allegramente girando, questo alle 11 e mezza, ma il treno è qua, 11 e 45, quando questo arriva qua, immaginate che questo orologio segna il mezzogiorno, e questo meccanismo di prossimità, faccia scattare questo orologio, quindi, fate in modo che i due orologi, segnino lo stesso istante, in un punto, l'orologio spostandosi, viene regolato a mezzogiorno, quando passa per questo punto, dove legge il mezzogiorno, quindi voi siete sul treno, no? e avete il vostro orologio sul treno, e state per passare accanto alla stazione, e guardate dal finestrino, e vedete l'orologio della stazione, che segna il mezzogiorno, quindi voi aggiustate il vostro subito al mezzogiorno, poi proseguite il viaggio, ok? Quindi questo orologio è stato attivato, a segnare alla stessa ora, che vede dal finestrino, la domanda da un milione di dollari è, ovviamente, quando questo segna il mezzogiorno, questi segnano il mezzogiorno, no? è evidente, quando il treno è arrivato qui, quindi ho disegnato le ruote, ecco le ruote, e questi orologi sono andati avanti, no? Magari questo segna la mezza, questa 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 è la mezza, questo orologio cosa segna? è una domanda da un milione di dollari. Allora, Newton, direbbe che questo orologio qui, ovviamente è sempre l'ipotesi che il treno non sobalza, che l'orologio non venga rovinato, queste sono state accantonate già queste problematiche, che sono problematiche tecnologiche, importanti, ma non sono più concettuali, possiamo pensarle risolte, anche se magari non è banale farlo, ma concettualmente si. Newton, direbbe che questo orologio segna la mezza, Einstein, no, direbbe che questo orologio qui, ha un ritardo, che dipende dalla velocità, ed invece se si ha il mezzogiorno e mezzo, segna qualcosa in meno, è in ritardo, è in ritardo, dipende dalla velocità del treno, se il treno è molto lento, il ritardo è impercettibile, e quindi si confonde, entro la precisione sperimentale, con la previsione di Newton, ma se la velocità del treno comincia ad essere importante, comincio a misurare un disaccordo, che non è più ignorabile, è significativo, è ripetitivo, è significativo, e se il treno va ancora più veloce, il ritardo diventa veramente imbarazzante, e se il treno va ancora più veloce, è talmente grave, è talmente sbagliata la previsione di Newton, che dite, ragazzi, Newton è proprio torto, ma lento o veloce, rispetto a cosa? rispetto a velocità della luce, vi ricordo la prima lezione, dove parlavo di questo rapporto qua, quando v è molto minore di c, siamo in regime non relativistico, quando questo è molto minore di 1, siamo in regime non relativistico, cioè newtoniano, e dire che la velocità del treno, per esempio, è molto più piccola la velocità della luce, è come dire che la velocità della luce è infinita, cioè nel limite che la velocità tende a 0, è come se la velocità del treno fosse infinita, no? Quindi, avere velocità molto basse rispetto a c, è come pensare a c molto grande! Invece avere velocità che cominciano ad essere 5%, 10%, 20%, 30% della velocità della luce, no? Tipo 0,1 di c, o 0,5 di c, eh? Allora, non possiamo più immaginare che c sia infinito! Eh? Quindi, quello a cui voglio alludere, è che cosa succede? Chi è sul treno, è un fisico come l'altro, e anche lui vorrà fare un suo sistema, di riferimento, cioè, forse non ho usato la parola, cos'è un sistema di riferimento? Fatemelo dire, e poi ci riprendiamo le due. Cos'è un sistema di riferimento? A valle di questa lezione alternativa, un sistema di riferimento è un sistema di coordinate, quindi geometria di cartesio, più una schiera di orologi sincroni, questo è un sistema di riferimento. Quindi, chi è sul treno, vorrà fare un suo sistema di riferimento, quindi cosa farà? metterà tanti belli orologi, metterà l'orologio madre, farà un lampo di luce, e sincronizzerà i suoi orologi. Ma cosa succede? Io sono sul mio treno, che viaggio con i miei orologi sincroni. Ah, che bel sistema di riferimento! Voi direte, voi che vedete me passare, oh, i tuoi orologi non sono sincroni, e io guarderò i miei orologi, sì che lo sono, sono i vostri che non lo sono! E ci vediamo alle due!